La piscina comunale di Pordenone era aperto al pubblico. Era rimasta chiusa diversi mesi per una controversia legale tra la società gestrice uscente, la GIS, e quella entrante, l'ARCA. Ora finalmente si potrà tornare in basca. È bene chiarire che non c'è stata negligenza da parte del Comune, ma c'è stata una lunga avvertenza giuridica che purtroppo impediva al Comune di poter riaprire l'impianto. Una volta che si è risolta la questione tra chi ha vinto la gara e il vecchio gestore, quando ci sono di mezzo gli avvocati, dico io, le cose si allungano sempre, adesso il nuovo gestore provvederà ad una riqualificazione dell'impianto. Notizia molto importante, saranno investiti tanti soldi. Dovevamo prima partire dalla parte interna e poi quella esterna, invertiamo per consentire di poter utilizzare in questo momento l'impianto dopo mesi di chiusura e di sistemare l'area esterna. Poi d'estate sistemeremo anche l'area interna. Quindi c'è un rinnovato impegno, un nuovo gestore, la riqualificazione dell'impianto e anche un servizio di qualità per i tanti utenti della piscina. Il Comune ha già investito 400.000 euro per la sistemazione sismica, a cui si aggiungeranno 3 milioni assicurati dal nuovo gestore per rinnovare l'impianto. Assieme al Sindaco, a lavorare per l'area apertura, è stato l'assessore De Bortoli. È una piscina che ha subito praticamente vari travagli, non dovuti all'amministratore comunale di Pordenone, ma dovuti alla parte legislativa per quanto riguarda l'assegnazione. Ma poi purtroppo anche per il Covid-19, che si è proprio intersecato in questo periodo di passaggio per la riappertura e dunque ci ha ritardato alcune volte degli atti che ci poteva portare forse ad aprire due mesi prima. Ma i cittadini di Pordenone saranno apprezzare quando verranno in questo impianto rinnovato che forse ne valeva la pena. Per informazioni orari della piscina è disponibile il sito pordenone.arcanuoto.it